Ciao Mario, benvenuti ad una Ciao Andrea, buonasera a tutti Mario, inizio con il chiederti quale eredità vi ha lasciato la partita giocata e vinta al debutto in campionato contro la Waterpolo Milano-Metanopoli? Innanzitutto noi venivamo dall'esperienza in Coppa quindi ci avevo preparato questa partita sicuramente pensando anche alla stanchetta accumulata durante la settimana precedente sapevamo di dover fare bene e di dover partire subito forte perché era la prima partita di campionato dovevamo dare subito un'impronta positiva alla partita così è stato, nei primi due tempi abbiamo disputato un'ottima gara poi inevitabilmente abbiamo avuto un crollo fisico e sono venuti fuori anche un po' i loro valori tecnici però sono un'ottima squadra e si è visto anche in acqua ma noi abbiamo fatto la nostra partita e alla fine abbiamo portato a casa i tre punti che è quello che conta Rispetto all'anno scorso la Rosa è stata ulteriormente potenziata si è arricchita di tre nuovi arrivi Basic, Irving e il giovane Turchini cosa portano in note i nuovi arrivati? Sicuramente la società ha fatto un grande sforzo economico per potenziare ancora la squadra e questi tre nuovi arrivati ci permettono di modificare il nostro gioco rispetto all'anno scorso che portano peso alla squadra nel senso che anche se l'anno scorso abbiamo trovato un certo tipo di gioco quest'anno mettendo chili in il nostro gruppo possiamo potenziali di difendere più al pressing possiamo pensare di provare nuove difese di provare nuove cose in attacco e sicuramente ci portano tanta qualità nel gioco perché Basic e Irving soprattutto Turchini sono giocatori di livello giocatori di calibro europeo e fanno tanto Certo, certo, assolutamente Avete già giocato il primo girone di Coppa Italia concludendo al primo posto primo posto a ponteggio pieno anche nel primo turno di Euro Cup debutto vincente in campionato ci sono delle partite nelle gambe allora ti chiedo alla luce di questi primi impegni ufficiali quali sono gli aspetti del gioco su cui la squadra può ancora registrare i maggiori margini di crescita? Sicuramente è un aspetto su cui dobbiamo ancora lavorare tanto è quello della comunicazione quando giochiamo c'è bisogno ancora di provare tanto perché siamo un po' indietro sotto l'aspetto tattico perché abbiamo iniziato tardi abbiamo avuto poco tempo soprattutto perché abbiamo avuto così tante partite quindi ci siamo concentrati prettamente sull'aspetto fisico per essere in condizioni di affrontare tutte queste partite al meglio quindi diciamo che direi proprio l'aspetto tattico a questo punto c'erano tantissime cose da provare da provare, riprovare, riprovare Da venerdì a domenica vi attende all'Olimpica il secondo turno di Euro Cup che tipo di partite possiamo aspettarci? Secondo turno di Coppa Europa quindi ci saranno squadre sicuramente di livello noi ci giocheremo tutto fino alla fine quindi sono un partite sicuramente toste l'Ostrasburgo, il Sabac e il BWSC sono team che hanno sicuramente più esperienza di noi in questa Coppa ma noi diremo la nostra fino alla fine e soprattutto siamo in casa quindi vogliamo passare il turno Quale vantaggio vi procura quello di giocare in casa? Rispetto per capirci alla trasferta della settimana scorsa avere l'opportunità dopo un match di campionato di non dovervi rimettere in viaggio che cosa cambia nell'avvicinamento al nuovo impegno? Sicuramente giocare in una piscina o in un'altra è lo stesso nel senso che come è bagnata la piscina a Strasburgo fosse spostata di Ungheria è bagnata anche a Palermo però il fatto che non dobbiamo viaggiare non dobbiamo spostarci sicuramente ci fa risparmiare una fatica in più e ci permette di rimanere concentrati da subito sulla partita senza pensare al viaggio ed è sicuramente un vantaggio rispetto alle altre squadre che comunque devono affrontare questo viaggio Certo e abbiamo detto Girone con quattro squadre le hai anche elencate prima io ti chiedo quali saranno le più pericolose sulla strada che porta ai quarti di finale? Se puoi dirci qualcosa sulle vostre tre avversarie qualche giocatore in particolare quali possono essere i loro punti di forza? Allora ho visto un po' lo Strasburgo contro l'Ortigia come sono visto la partita ci gioca anche un italiano che è Valentino sono un'ottima squadra hanno perso qualche saniero rispetto all'anno scorso però sono sicuramente un'ottima squadra la squadra serba invece non la conosco purtroppo non ho ancora avuto modo di vedere video di questa squadra mentre la squadra ungherese ci dicono che sia un'ottima squadra e poi in settimana vedremo il video delle loro partite e ci proveremo al meglio anche per loro dovrebbero essere loro e più quotati per il passaggio del turno questa squadra ungherese proprio Che cosa cambierebbe nel caso in cui il lavoro della società dovesse riuscire ad ottenere l'apertura del pubblico? Che cosa significherebbe scendere in acqua con l'appoggio dei vostri tifosi? La società sta lavorando tantissimo per cercare di aprire la tribuna il presidente ogni giorno ci ripete che sta provando tutti i modi a far aprire la tribuna lo sindaco tutto quello che è necessario per noi cambierebbe tantissimo a niente nel senso che la partita alla fine si gioca in acqua però comunque avere il sostegno del pubblico sentirsi comunque in un certo senso acclamati da qualcuno fa sempre tanto tutto per la testa più che per il fisico però sperando che comunque per giocare una partita con il pubblico è un'altra cosa nel senso che è bello è quello il clima per lo sport diciamo è brutto vedere la tribuna vuota non è mai piaciuto a nessuno certo assolutamente rispetto alle gare disputate in Croazia quale salto di qualità deve compiere la squadra quale step in avanti deve fare per riuscire a mettere il timbro sul biglietto per i quarti di finale beh rispetto alla Croazia sicuramente in Croazia è stato come rompere il ghiaccio per molti di noi è stata la prima esperienza in Europa e il team aveva bisogno di avere match di quella difficoltà per provare maggiormente gli schemi e per colladare il proprio gioco quindi diciamo che il passo più che fare qualcosa in più verrà naturale nel senso che se abbiamo quel di più passiamo il turno se non ce l'abbiamo chiaramente andremo fuori ma noi ci stiamo lavorando e ci proveremo fino alla fine a passare il turno certo e questo è l'auspicio che tutti si augurano possa realizzarsi chiudiamo con un'ultima battuta sei già da qualche stagione a Palermo quindi sai che cosa vuol dire respirare il clima della città ti chiedo che cosa significa proprio per la città di Palermo ma anche per il Telemar come società è vero che negli anni scorsi c'è stata più volte la nazionale ci sono stati impegni con il Settebello però che vuol dire organizzare e ospitare nella piscina di casa un concentramento europeo io penso che fino a cinque anni fa sarebbe stato inaspicabile che da lì a cinque anni pensare che la Coppa avrebbe fatto la Coppa addirittura un'Europa League organizzandola in casa quindi immagino sia un'esperienza davvero bellissima soprattutto per la società che hanno lavorato tanto hanno investito tanto e quindi sicuramente sarà emozionante per loro come per noi tra l'altro quindi aspettiamo che vedo tutto bene nel miglior modo possibile va bene siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata io ringrazio Mario Del Basso per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Mario grazie mille ciao Andrea grazie a te grazie a te grazie a te